bentornati e bentornate a un nuovo appuntamento focus verona economia speciale infrastrutture siamo all'interno della ventesima edizione della settimana veronese della finanza un format importante inaugurato nel 2010 che prosegue dopo tanti anni creando dei focus di approfondimento come abbiamo anticipato in premessa parliamo di infrastrutture in particolare di infrastrutture idriche diamo il bentornato al presidente di acque veronesi roberto mantovanelli bentornato presidente grazie mille buongiorno matteo è sempre un piacere diciamo confrontarsi su questo tavolo anche perché ci sono tante novità tanti investimenti tanti fondi provenienti anche dal pnr ma partiamo con ordine qualche giorno fa la vediamo in questo articolo di verona economia.it assieme ad altre autorità ad altri gestori territoriali dei servizi idrici insomma avete presentato e approvato un piano di investimenti per verona il garda di oltre 518 milioni di euro fino al 2029 insomma un importo notevole gran parte insomma attribuibile ad acque veronesi più di 390 milioni presidente sì sono numeri sicuramente significativi proprio da un punto di vista di valore assoluto e una grande soddisfazione per un piano veramente ambizioso è la prima volta in base al nuovo metodo tarifario era che andremo ad approvare un piano di durata sessennale quindi sei anni e fino alla volta scorsa i piani erano quadriennali e per cui chiaramente si va a fare una programmazione è decisamente di medio periodo e con con dentro tantissime cose e diciamo un piano del delle opere che ha l'obiettivo e l'ambizione di portare il servizio idrico di verona e la sua provincia nel futuro insomma perché sappiamo quanto le infrastrutture idriche siano importanti in italia abbiamo un gap infrastrutturale da colmare per diciamo investimenti insufficienti negli ultimi 20 30 anni e ci ritroviamo in una situazione in cui i fenomeni meteorologici che abbiamo osservato nell'ultimo periodo con dei periodi di siccità prolungata alternati a fenomeni meteorologici brevi e intensi hanno messo in evidenza ancor di più alcune carenze infrastrutturali per cui dobbiamo dobbiamo migliorare da questo punto di vista abbiamo capito una cosa che forse davamo per scontato ovvero che l'acqua non è una risorsa illimitata e dobbiamo porre attenzione al bilancio idrico un concetto di cui si sta sentendo parlare negli ultimi anni che è relativamente nuovo chiaramente come in tutte le attività io faccio prendo ad esempio per far capire a tutti il conto corrente certo assolutamente partiamo da un saldo iniziale durante l'anno abbiamo entrate uscite e arriviamo un saldo finale ora se non c'è un bilanciamento tra le voci delle entrate le voci delle uscite nel giro di poco tempo di pochi anni il saldo finale potrebbe diventare preoccupante potrebbe andare in negativo e questo è quando ci si trova con una disponibilità insufficiente d'acqua noi siamo in una zona ancora relativamente fortunata perché abbiamo delle falde molto ricche d'acqua per anche per questo deriva la nostra diciamo retaggio culturale in cui l'acqua non manca viene considerata anche comunque in qualche modo dovuta e la diamo per scontata diceva però assolutamente invece è preziosa e bisogna ricordarla si è registrato purtroppo anche nel 2022 nel bacino idrografico del po una grave siccità come diciamo della quale non c'era forse memoria nelle nostre aree questo ci fa riflettere sulle infrastrutture quindi noi siamo al lavoro per migliorarle per rendere più resilienti come si dice come prevalentemente con interventi di interconnessione quindi i sistemi acquedottistici nostri che nascono da quelli dei comuni che avevano una volta in gestione l'acquedotto erano diciamo reti indipendenti e non collegate tra loro oggi con grandi interconnessioni mettiamo queste diverse reti in contatto per diciamo così un funzionamento mutualistico cioè posso portare l'acqua dove manca posso portarla via da dove ne ho in abbondanza e posso intervenire anche di fronte ad eventuali fenomeni ad esempio inquinanti perché non c'è solo un tema di quantità ma c'è di qualità un tema di qualità che è molto importante in questo senso le normative europee che sono poi le normative da cui discende la normativa nazionale a cui noi dobbiamo fare riferimento stanno alzando di molto gli standard qualitativi sia dell'acqua di acquedotto che quella dell'acqua refla quindi quella che a termine del processo della fognatura della depurazione noi restituiamo all'ambiente e quindi anche qui derivano per i gestori diciamo degli obblighi molto più importanti molto più onerosi rispetto al passato e quindi anche qui dobbiamo intervenire dobbiamo fare una cosa fondamentale per il nostro settore che innovazione tecnologica stiamo vedendo anche delle immagini dei sorvoli di alcuni cantieri aperti cantieri resi possibili grazie anche al pnr uno strumento che acqua veronesi ha utilizzato al meglio perché ha avviato diversi progetti grazie a questo strumento straordinario messo in campo chiaramente prima dall'europa con next generation eu e poi declinato dal governo italiano con il pnr ecco una risorsa straordinaria che non avete esitato insomma a cogliere un'opportunità perché effettivamente sono opere che costano diversi milioni di euro presidente esatto hai toccato un punto fondamentale abbiamo detto quanto importanti sono questi investimenti e quanto ingenti sono chi paga è chiaramente oggi fondamentalmente gli investimenti nel servizio idrico integrato si sostengono con la tariffa quindi con la bolletta che tutti noi cittadini paghiamo per l'acqua a volte magari si sente dire no che l'acqua dovrebbe essere gratis di fatto lo è nel senso che è l'unica commodities per cui noi non paghiamo l'acqua in sé paghiamo il servizio e in questo servizio c'è la quota di investimenti che assolutamente è piuttosto rilevante e noi riusciamo a mettere a terra un piano da 390 milioni con un impatto molto contenuto sulla tariffa dei cittadini veronesi che ricordo è tra l'altro è una delle più basse in veneto in italia e ancora di più in europa dove i valori medi delle tariffe idriche sono molto più alti due tre anche quattro volte rispetto a quello che paghiamo noi e riusciamo a farlo anche grazie ai fondi del pnr che siamo riusciti grazie veramente al lavoro dei nostri tecnici che non finirò mai di ringraziare sono precisi e veloci siamo riusciti ad attingere a circa 50 milioni di euro di finanziamento pnr quindi la possibilità di realizzare investimenti che creano valore sul nostro territorio per i nostri cittadini senza però un aggravio diretto di costi certamente l'aggravio indiretto perché poi i soldi del pnr qualcuno li pagherà però era importante portarli a casa per veramente creare un volano e accelerare questa macchina degli investimenti perché ci sono due cose secondo me importantissime da dire per capire anche da un punto di vista economico visto che di questo parliamo parlando gli investimenti nel servizio idrico sono investimenti che hanno una leva economica molto importante quindi per ogni euro che il gestore investe sul territorio si generano volumi economici importanti c'è un moltiplicatore che va dalle tre almeno alle quattro volte rispetto ai soldi che il gestore spende e quindi questo è importante per il nostro territorio e ogni euro investito oggi ha un valore direi decuplicato se lo proiettiamo nel futuro perché investire il 5 il 10 per cento in più oggi mi consente di risparmiare due tre volte tanto gli investimenti se mi proietto nel futuro perché un problema diciamo di far capire quanto importante investire nell'acqua è il fatto che il suo costo quindi il suo prezzo e il suo valore sono distantissimi assolutamente perché noi paghiamo circa due euro per metro cubo quindi per mille litri di acqua potabile di alta qualità controllata che arriva nelle nostre case e con gli stessi mille litri portati via in fognatura depurati e resi all'ambiente e quindi per tutto questo lavoro per mille litri sono circa due euro pensiamo al valore della risorsa quando non c'è quando questa non c'è quindi i disagi per i cittadini per un uso idropotabile per un uso sanitario se pensiamo che la sanità è la prima spesa pubblica in assoluto l'acqua è un presidio di sanità fondamentale e produttivo molte imprese funzionano grazie all'acqua e chiaramente quello che è il consumatore principale l'agricoltura senza acqua non c'è produzione agricola non c'è sicurezza alimentare e per cui sicuramente i soldi investiti nell'acqua sono chiaramente un investimento che frutta in prospettiva la nostra comunità sicuramente molto presidente a proposito di cantieri di lavori eccetera oltre al rifacimento potenziamento anzi della depuratura di bussolengo un'opera da quasi 6 milioni qui vediamo dal sito daily la notizia del 12 aprile scorso in cui venivano annunciati i lavori l'inizio dei lavori della condotta idrica bel fiore verona est un'opera importantissima anche qui con fondi vediamo del next generation u fondi della comunità europea e poi saliremo un po in quota in lessinia ma soffermiamoci un attimo su questo lavoro perché insomma una condotta di diversi chilometri importante per il territorio dell'est veronese che era atteso da tanto tempo sì allora diciamo abbiamo visto anche delle immagini non scorrere con si adesso le rivediamo ancora le vediamo ancora sono sono appunto le tubazioni di questa fondamentale condotta che è una di quelle interconnessioni di cui parlavo prima questa è una grande interconnessione macroscopica che va diciamo a collegare tutto il sistema coedottistico dell'est con quello della città è un intervento che diciamo si inserisce nel progetto più ampio del mosav quindi il modello strutturale degli acquedotti del veneto quella che noi in gergo chiamiamo l'autostrada dell'acqua e pensate a una una grande tubazione idrica che percorre idealmente quella che è l'autostrada 4 collegando un domani l'obiettivo finale è quello di collegare dal lago di garda al mare adriatico e mettendo in interconnessione tutti i sistemi acquedottistici per appunto tutte le tematiche che dicevo in apertura e investimento importante investimento insomma che ha anche da un punto di vista tecnologico ha un vantaggio 34 milioni di euro se non sbagliamo giusto più o meno 34 milioni di cui oltre 20 finanziati appunto confondi pnr e questo è probabilmente allora da un punto di vista di impatto economico l'intervento più importante insieme al progetto driver che è il progetto di digitalizzazione dell'acquedotto di verona dei comuni della prima cintura e della lessinia è un progetto volto alla riduzione dei consumi degli sprechi e quindi anche delle perdite idriche e progetto che proietterà nel futuro la gestione appunto della risorsa da parte di acque veronesi perché dobbiamo pensare che noi andremo a installare e tutta una serie di rilevatori misuratori sul campo che ci permetteranno in tempo reale sostanzialmente di gestire portate pressioni intervenire isolare parti di rete con l'obiettivo di fornire un miglior servizio a un minore consumo e con minori con minori perdite sappiamo che la tematica delle perdite idriche in italia è rilevante è anche una cosa chiaramente e giustamente sensibile nei confronti della popolazione abbiamo un dato nazionale del 42 per cento di perdita idrica a verona siamo intorno al 36 e con questo progetto nelle aree interessate puntiamo a scendere sotto il 25 per cento di perdita quindi chiaramente dando un impatto significativo e una cosa importante da dire quando parliamo di perdite perché a volte diciamo questo numero fa paura e il dato di cui si parla è il dato delle perdite totali ovvero la somma tra le perdite reali cioè l'acqua che esce dai tubi e le perdite amministrative che sono perdite di varia natura faccio un esempio un allaccio abusivo e piuttosto che la l'aiuola comunale non dotata di contatore quindi non è un buco nel tubo è acqua non contabilizzata che però per i nostri parametri parametri di legge tutta l'acqua che non è contabilizzata tecnicamente è perdita quindi chiaramente il nostro obiettivo è di limitare le perdite reali e contabilizzare tutta l'acqua che deve essere contabilizzata chiuderei presidente con un riferimento a un'altra infrastruttura che di per sé diciamo a livello quantitativo è inferiore rispetto a quelle citate però insomma a livello qualitativo importante anche perché ha richiesto uno sforzo cantieristico notevole e soprattutto ha messo in sicurezza l'approvvigionamento dell'acqua in lessinia vediamo sempre dal sito veroneconomia.it questo articolo in cui nella centrale di michelazzi siamo a fosse sostanzialmente nel comune di santana d'alfaedo qualche tempo fa è stata diciamo inaugurata questa nuova condotta parallela a quella preesistente obsoleta perché ormai aveva qualche decennio e che permette insomma di garantire una portata notevole e comunque una continuità di approvvigionamento con il rischio anche di evitare eventuali rotture della preesistente che metterebbe in crisi interi paesi in montagna.lessinia che tra l'altro poi ne parlerà adesso è interessata sarà interessata anche da un altro progetto importante ma chiudiamo proprio con questo riferimento di peri michelazzi perché è stato veramente un lavoro particolare e realizzato nei tempi previsti sì siamo riusciti a collaudare quest'opera nei mesi scorsi intervento che è durato alcuni anni chiaramente la difficoltà era al dislivello un intervento in montagna su diciamo la verticale di quello che è il percorso della perifosse per intenderci diciamo tutti i ciclisti sanno di cosa parla e quindi sono oltre 800 metri di dislivello con cui noi abbiamo realizzato questa condotta che come dicevi correttamente affianca quella esistente e ci permette di mettere in sicurezza e tutta la parte della lessinia occidentale quindi dal comune di sant'anna fino a bosco chiesa nuova e chiaramente anche qui acqua fondamentale per un territorio chiaramente che grazie all'acqua è riuscito a svilupparsi e che merita di svilupparsi anche in futuro e qui se mi permette assolutamente al prossimo passo qui diciamo senza spoilerare nulla in particolare ci sarà un momento dedicato insomma dovremo presentarlo insieme ai sindaci è il progetto con cui portiamo acqua alle malghe perché dico insieme ai sindaci perché questi sono fondi derivanti dai comuni di confine quindi non sono fondi di acqua veronesi acqua veronesi è il soggetto attuatore che realizza l'opera i fondi sono stati messi a disposizione dai comuni di bosco erbezzo e sant'anna una cifra intorno ai 7 milioni di euro per un intervento appunto che ha l'obiettivo di portare acqua alle malghe e quindi anche qui sviluppo possibilità appunto di sviluppo anche turistico ma non solo chiaramente presidente davvero una panoramica molto ampia interessante avete capito che acqua veronesi sta investendo molto è un motore di sviluppo per le infrastrutture idriche ma anche territoriali questo ultimo accenno che ha fatto alla portata dell'acqua nelle malghe chiaramente ha dei risvolti anche giustamente nell'ambito turistico e non solo anche della produzione dell'occupazione in territori insomma montani sappiamo che non è sempre semplice lavorare in quota quindi presidente grazie per questo aggiornamento e sicuramente torneremo qui tornerà anzi perché ci saranno novità nei prossimi mesi con molto piacere grazie a tutti focus veroneconomia questa puntata dedicata ad acque veronesi termina qui ci vediamo una prossima occasione grazie a tutti grazie a tutti